Salve a tutti. Oggi vi mostrerò una tecnica ideata da me, per realizzare grattacieli in Minecraft, usando pochissimo materiale. Nello specifico per la costruzione dell'edificio che vedete in questa foto ho usato, un secchio di lava, uno di acqua, due, tre, stack di pietra per i muri e il tetto è circa uno stack per ogni piano dell'edificio. Oltre a circa dieci blocchi di vetro per ogni piano è il materiale occorrente per l'aredamento delle stanze. In questo tutorial ne mostrerò tutte le fasi di costruzione. Il tempo impiegato per fare tutto è stato circa di quattro giorni del gioco. Equivalenti più o meno a un'oretta di tempo del mondo reale. La prima cosa da fare è raggiungere l'altezza massima dell'edificio da costruire. Per farlo, innanzate una torre uno per uno mettendo sempre un blocco sotto di voi. Arrivati in cima, piazzate una torcia e costruite una piattaforma quadrata, che sarà di larghezza pari a quella dell'edificio finito, muri compresi. Visto che voglio costruire un hotel a due stelle, so già che le stanze saranno piccole e col minimo indispensabile. Basterà una piattaforma 9x9. Ecco fatto. Il passo successivo consisterà nel costruire una struttura adatta a far colare la lava dalla cima della torre fino al terreno. Questa poi formerà i muri dell'edificio una volta pietrificata con l'acqua usando la famosa tecnica della pietrificazione dei griffer. Questo altro passaggio, che vedremo dopo, è la base della tecnica di fonderia edile da me ideata. Prima però bisogna creare una piramide, con cima al centro della piattaforma, da cui far colare la suddetta lava. Il processo da usare, per chi non è pratico con la tecnica della pietrificazione, è mostrato in questi fotogrammi. Il successivo consisterà invece nella modifica ulteriore della piramide, per fare in modo che la pietrificazione nelle fasi successive avvenga in maniera uniforme, senza lasciare buchi nei muri. Quindi, anche se sapete già pietrificare, consiglio comunque di non saltare la prossima parte. Prima di procedere, controllate che tutti i lati della piramide siano costruiti correttamente e cancellate la piattaforma in eccesso. Ora inizia la parte più complessa. Per fare in modo che la lava e l'acqua collino bene, distruggerete i blocchi agli angoli delle base della piramide e poi un blocco ogni due come mostrato nel video. Se non farete esattamente così, i muri non si formeranno, e vi ritroverete solo con una specie di albero in pietra alla fine della solidificazione della lava. Ci ho messo un po' per elaborare questo sistema, con decine di tentativi falliti. Quindi modificatelo a vostro rischio e pericolo. Ok fatto. Ora costruiamo una piattaforma sospesa su cui rifugiarci mentre faremo colare la lava. Nel farlo ricordatevi di non lasciare blocchi a contatto con la piramide. Fate sempre almeno due passaggi perpendicolari fra loro, così potrete controllare meglio se le cose si svolgono correttamente. E fateli abbastanza lunghi da riuscire a vedere il terreno dove dovrebbe spandersi la lava e i muri in formazione. Bene. Via con la secchiata. Ora che la lava è arrivata al terreno, come ogni buon griefer, togliamola e mettiamo al suo posto l'acqua. Un errore assolutamente da evitare a questo punto, è togliere l'acqua appena questa tocca al terreno. Voi mi direte, perché? Non dovrebbe aver già pietrificato tutto? La risposta è no. La pietrificazione della maggior parte dei muri richiede più tempo, quindi se voi togliete l'acqua subito vi ritroverete un edificio monco alla base. Lo vedremo meglio questo nei fotogrammi successivi presi a distanza radvicinata. Ecco, la vedete quella colonna di lava? Quello è un pezzo di muro in formazione. Se voi togliete l'acqua prima che la pietrificazione sia terminata, vi ritroverete il pavimento del grattacielo inondato dalla lava e un pezzo di muro in meno. Questo processo si può vedere bene anche dall'alto. Inoltre spesso non è sincrono su tutti i lati dell'edificio, quindi fate attenzione. Comunque avere dei buchi è una cosa normale. Quelli che sono presenti a tutta altezza dell'edificio sono funzionali in quanto saranno indispensabili per fare le finestre. Ora torno su, come potete vedere, anche in alto ora non si vede più la lava ad esal muro. È il momento di togliere l'acqua. Fatto questo, ricordatevi di illuminare la cima dell'edificio, altrimenti sopra di voi di notte spavneranno un mondo di mob pronti a cadervi in testa. Una buona idea per scendere dalla piattaforma, se siete in survival, è quella di crearsi un ascensore ad acqua col secchio che avete recuperato. Dannato bioma innebato che ghiaccia i blocchi. Spostiamoci un po' verso il bioma paludoso e vediamo se li funziona. Una volta che l'acqua emessa dalla vostra sorgente arriva a terra, buttatevi. Consiglio divamente di non fidarsi dell'acqua che cola ancora dall'edificio. Perfetto. Ora che è tutto asciutto, entriamo all'interno e, facendo attenzione alla lava che a volte è ancora presente, specie sotto i blocchi, completiamo il pavimento e illuminiamolo. Una volta fatto anche questo, sulla colonna centrale dell'edificio, che è quella che noi all'inizio abbiamo utilizzato per costruire la piattaforma, piazziamo delle scale e andiamo in cima a levare la sorgente d'acqua. Queste scale saranno anche utili per aiutarci nella costruzione. Inoltre nella versione 1.2 sarà possibile anche usare le liane adese ai muri come scale. Dato che queste si coltivano facilmente, il loro utilizzo ridurrà di molto i costi degli edifici multipiano. Altra novità piacevole della 1.2 sarà l'altezza massima del mondo innalzata a 256 blocchi. O almeno così io ho capito. Ovviamente questa colonna poi si può anche togliere e fare delle scale normali. Tenete presente che nel gioco non è passato nemmeno un giorno finora, e abbiamo già fatto il 90% del lavoro. In neanche 15 minuti. In un'altra mezz'ora 40 minuti, ho realizzato tutti i piani e gli arredi. Eccovi il risultato. Il nome mi sembra adatto. Le porte esterne sono in ferro perché sto usando la 1.2 snapshot che, fra le novità introdotte, permetterà agli zombie di sfondare le porte di legno in difficoltà hard. Questa che vedete ora è la reception dell'hotel, al piano terra. Sopra ora vi mostro le stanze e l'ampio ingresso con finestra sulla palude innebata presente in ogni piano. Come potete vedere, c'è proprio il minimo indispensabile. Tutte le stanze dell'hotel sono come questa e ce n'è una per piano. Andiamo a vedere quanti piani ha l'edificio. Questo piccolo anfratto che vedete è il sottotetto. In un edificio così stretto non è abbastanza grande per una stanza, ma con grattacieli più grandi è adatto per piazzarci cose come suite panoramiche. Il sottotetto o altro non è che lo spazio esistente fra i blocchi della piramide e la piattaforma che abbiamo costruito all'inizio. Detto questo direi che il tutorial è finito. Arrivederci alla prossima.